Musica Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Oggi ci occuperemo del progetto Passio che dopo la forzata assenza del 2020 provocata dalla pandemia torna in questi giorni al suo consueto appuntamento biennale e ne parleremo con il nostro ospite che è Don Silvio Barbaglia, biblista e presidente del comitato per il progetto Passio che naturalmente ringrazio per la sua disponibilità. Mi sono dimenticato di dire che è anche parroco. Da un anno è qualcosa. Allora Don Silvio, prima di presentare il programma di Passio 2022 che ha preso via come abbiamo detto in questi giorni e in queste ore, facciamo un passo indietro. Con quale obiettivo è nato se non sbaglio nel 2004 il progetto Passio? Sì, gli obiettivi di fatto sono questi. Erano quelli, e continuano ad essere tali, cioè di far sì che il tempo forte della Quaresima e della Pasqua, che nell'anno liturgico è il tempo per eccellenza della vita cristiana, potesse essere, come dire, fruito non soltanto all'interno delle chiese, che sono i luoghi delle celebrazioni, ma si pensava appunto di offrire in questo modo, in questo tempo forte, molteplici iniziative che radunassero persone anche in altri luoghi, potremmo dire un po' più profani, ecco, rispetto al luogo sacro della Chiesa. E mettendo assieme anche, come dire, declinazioni di espressive che non fossero semplicemente o unicamente quelle della celebrazione o le varie celebrazioni di preghiera oppure celebrazioni eucaristiche, come è di consueto nella liturgia, ma anche eventi artistici, incontri, dibattiti, talk show, e quindi la finalità di far incontrare le persone attorno al nucleo generatore, che era esattamente la passione di Cristo, che in sé porta una sfida molto grossa, che è quella di far incontrare comunque un po' tutti gli uomini, credenti e non credenti, attorno alla sfida di una morte ingiusta, in sostanza, e quando noi ci troviamo di fronte, come in questi giorni, a tante morti atroci, ingiuste, è chiaro che il cuore dell'uomo si ribella, si ribella proprio in nome di quell'invocazione di giustizia. E allora il progetto Passio cercava appunto di lavorare su questo fronte, con un fronte laico, un fronte credente, e quindi è nato con questa idea, quindi si è ampliato sempre di più per cercare di raccogliere le realtà che ci sono anche sul territorio, che hanno voluto collaborare. Certo. Ecco, veniamo al tema che fa da filo conduttore di questa edizione, quella del 2022. Alzati, rivestiti di luce, dopo la notte rinasce la città. Infatti abbiamo intitolato anche noi questa puntata, rinasce la città. Perché è questa scelta? Dunque, la scelta della città come luogo importante di incontro e anche sul quale riflettere, era già di Passio 2020. Passio 2020 è partito proprio con l'idea di una città dell'uomo, città di Dio. Volevamo riflettere proprio su questa importanza del ritrovarsi, del fare comunità, del fare incontrare la comunità ecclesiale con la comunità civile. E in quel mercoledì delle ceneri, in piazza Duomo Novara, abbiamo fatto partire questa esperienza proprio mentre si stava diffondendo il terrore di allora, che era quello del Covid-19. E appena partita l'edizione non c'è stata neanche la celebrazione delle ceneri allora, ricordiamoci, perché era stata interdetta. Allora, appena partito il progetto abbiamo dovuto spegnerlo. Il tema della città era già di allora. Adesso, due anni di distanza, volevamo cogliere che cosa? I rialzarsi, secondo Isai, alzati e rivestiti di luce. Dopo questa notte di due anni, diciamo, allora rinasce la città, rinasce la voglia di costruire. Ma chi poteva immaginare che cosa sarebbe successo esattamente, potremmo dire, negli stessi giorni di due anni fa, laddove il nemico era invisibile e ora il nemico invece è tremendamente visibile. Proprio nel presentare il passo 2022, il nostro vescovo, Monsignor Brambilla, scrive che rinascere significa nascere di nuovo, in modo nuovo per diventare nuovi. In fondo è quello che ci sentiamo ripetere un po' da tanto tempo, che da questa pandemia avremmo dovuto uscire diversi, quindi in qualche modo nuovi. Adesso poi con questa terribile coincidenza con la guerra, davvero Passio entra nella cronaca, tiene conto della cronaca, non solo entra in luoghi diversi, ma entra nel cuore di ogni cittadino, di ogni abitante. La cronaca conta per Passio. Ma certo, conta decisamente la cronaca e il modo di trattare la cronaca però è sempre a livello, potremmo dire, delle scelte interiori. Quindi noi possiamo lavorare soltanto sull'aspetto formativo, l'aspetto educativo, perché di più non possiamo, offrendo luoghi di riflessione, di incontro. Allora è proprio per questo il fatto che si parla di novità, quindi dopo la notte rinasce la città, questa novità è la novità di cui parla l'Apocalisse nel suo ventunesimo capitolo, dove annuncia cieli nuovi, terra nuova, la Gerusalemme di prima non c'è più, l'altra scende dal cielo, questa Gerusalemme nuova ha a che fare con quel ecco io faccio nuove tutte le cose. E quindi il centro di questa esperienza è quella di abituarci sempre di più, che la vera chance del rinnovamento non sta nel fare cose nuove, ma sta nel fare nuove le cose, cioè vuol dire in altre parole che la novità scaturisce dal tuo sguardo interiore, le cose paradossalmente saranno simili a quelle di prima, ma è tuo il modo nuovo di vederle, ecco noi possiamo lavorare o dare un contributo esattamente in questa direzione. Ecco, una caratteristica di Passio è stata sempre più, direi, quella di essere un'esperienza diffusa, disseminata sull'interritorio della nostra diocesi di Novara, che tra l'altro comprende tre province, il VCO Novara e una parte significativa della provincia di Vercelli. Anche quest'anno c'è questa diffusione di Passio? Sì, direi in modo diverso dagli altri anni, ma abbiamo puntato esattamente a questa dimensione della diffusività attraverso un riproporre, un modulo, una forma di trilogia che ogni settimana va a scandire il giovedì, il venerdì e il sabato in cinque luoghi diversi della nostra diocesi. Diciamo cinque città, perché il tema è quello delle città e ci siamo mossi proprio su cinque luoghi importanti sul piano residenziale all'interno della nostra diocesi e lì replichiamo lo stesso modello mutando naturalmente i contenuti, però lavorando sempre sulla centralità dell'immagine della città. Ecco, vediamo appunto questi temi che poi vengono declinati. C'è un primo tema che è una chiesa in preghiera. Come viene declinato concretamente? Esatto. Allora, il primo tema, una chiesa in preghiera, di fatto l'abbiamo collocato sul giovedì. Quindi il giovedì è il giorno orante del progetto Passio, facendo passare le varie settimane. Cerco, insomma, un po' di concretizzare la cosa. Il primo giovedì interessato per la prima trilogia, giovedì, venerdì e sabato, è Novara. Si parte da Novara, sarà il giovedì 10 di marzo e all'interno della città di Novara, a partire dal Duomo, dove ci sarà un evento di incontro, di preghiera, plasmato proprio sulla tematica di Isaia, alzati, rivestiti di luce, la tematica della città, accanto appunto al Duomo, o attorno al Duomo, ci saranno altre tre, quattro parrocchie che vanno a raccogliere un po' tutte l'interazione dell'UPM, dell'unità pastorale missionaria della città di Novara. Poi, a giovedì successivo, cioè il 17 marzo, saremo invece nell'Aronese, Borgomanerese, in quella zona, allora privilegeremo un'esperienza particolare, che è quella del Lago d'Orta. Quindi si partirà in battello da San Filiberto, si andrà nella notte a celebrare la compieta con le monache di San Giulio, proprio nella Basilica di San Giulio, e si riprenderà con il battello a fare tutto il periplo del Lago d'Orta, ascoltando i testi evocativi per questo momento di preghiera. E sarà presente anche il nostro Vesco in quella occasione, per poi arrivare nell'Ossola, dove valorizzeremo il Sacro Monte Calvario, con una processione, quindi orante. Poi in Valsesia, invece a Romagnano-Sesia, ci sarà un incontro di preghiera all'interno della chiesa parrocchiale di San Silvano, e poi da ultimo, il giovedì 7 aprile, presso la collegiata di Sant'Ambrogio, proprio a Omenia, ci sarà una giornata monastica, perché i monaci di Germania scenderanno a Omenia e vivranno con la cittadinanza una loro giornata tipo di monastero. Accanto a questo, poi ci sono anche le 24 ore con il Signore, che Papa Francesco aveva già lanciato alcuni anni fa, e saranno venerdì 25 e sabato 26 di marzo, in particolar modo nella città di Novara ci sarà una forma di adorazione continua dalla venerdì sera fino al sabato sera. Tipica espressione, anzi no, direi anche tradizione della quaresima, sono i quaresimali. Esistono ancora i quaresimali? A noi fanno venire in mente i vecchi quaresimali, dei predicatori in missione nelle nostre città. Esistono ancora? Sì, sono la categoria che abbiamo utilizzato ormai da una serie di edizioni, a questa parte quello dei quaresimali, che erano il luogo della predicazione, il tempo di quaresima, e noi abbiamo inaugurato i quaresimali della cattedrale, avvenivano tutti nella cattedrale di Novara, e poi venivano trasmessi in streaming oppure in televisione per la diocesi. Invece, volendo essere itineranti, anche questi venerdì dei quaresimali si collocheranno in modo itinerante attraverso cinque città, cinque città diciamo simbolo per la formazione sia della cultura europea e sia anche dell'evangelizzazione. Abbiamo l'apertura a Novara l'11 di marzo con la città di Istanbul, nel rapporto cristianesimo-islam con la presenza di Riccardo Redaelli, docente della cattolica, esperto del settore, per poi andare al venerdì successivo saremo invece a Darona con la città di Mosca, particolarmente forte in tutto questo momento, dove tratteremo bellezza, fedeltà e martirio con la figura di Adriano Dell'Asta, anche lui docente della cattolica, attraverso il studio Tognolo, insomma, è stato possibile coinvolgere tutti questi docenti della cattolica. Poi nell'Ossola invece metteremo in evidenza l'evangelizzazione nell'Africa, avendo la presenza di missionari che hanno a che fare con l'Ossola proprio a Bissima Funa e il Chad, con la relatrice Anna Pozzi di Mondo e Missione, osserveremo la nuova evangelizzazione proprio del cristianesimo in Africa e la nostra presenza della missione, quindi è un villaggio, Bissima Fuma per dire sempre però il luogo di incontro. Ci sarà Gerusalemme con Vittorio Emanuele Parsi, che analizzerà la questione nella chiesa della Madonna delle Grazie di Varallo dal punto di vista più geopolitico. E infine Franco Cardini con la città di Roma e saremo invece a Domenia l'8 di aprile. Franco Cardini, grandissimo storico, soprattutto dell'epoca medievale. Poi ho visto che ci sarà spazio anche per la passione in musica, quindi anche da questo punto di vista non manca nulla in passio. Sì, anche se il programma è molto ridotto rispetto agli altri anni perché c'è stata la pandemia. Comunque abbiamo voluto preservare una specie di arcata fondamentale, che è quella dell'aspetto artistico e quella appunto dell'aspetto musicale. E abbiamo privilegiato moltissimo il Requiem di Mozart, che verrà realizzato in special modo dalla cappella strumentale del Duomo di Novara, ma anche dalla corale San Gregorio Magno di Trecate, per esempio, Pio Domenia saranno loro. Poi abbiamo anche declinazioni artistiche, meditazioni spirituali in parole e musica, titolata Passioni, ecco, che avverranno invece a Quarona, in Valsesia. Ecco, e come pure, per esempio, a Domodossola troveremo un pomeriggio del sabato che inizieranno tutta una serie di declinazioni musicali, andranno avanti poi anche dopo cena. Quindi sarà uno stop dalle 16 fino alle 22 nella città di Domodossola. Quindi questi sono gli appuntamenti fondamentali. Poi a Novara abbiamo naturalmente anche altri appuntamenti. Ce ne sono su Novarese, insomma, due su De Andrè. Poi abbiamo Canto Gregoriano fino al concerto finale che è su Vivaldi, Gloria e anche Mozart in Duomo al 23 di aprile. In queste settimane anche la Chiesa Novarese è molto impegnata nel percorso sinodale, voluto dal Papa, voluto dalla conferenza episcopale italiana. Entro la fine di aprile dovrà, come dire, svolgersi tutta la parte delle assemblee sinodali per poi produrre non tanto un documento quanto un racconto dei racconti e delle esperienze che emergeranno. Ecco, in qualche modo questa esperienza di Passio 2020 si inserisce in questo percorso sinodale? Sì, abbiamo voluto inserirci certamente non con il metodo che è trasmesso dalla struttura anche diocesana per cercare di raccogliere i dati per questi eventi di carattere sinodale, ma abbiamo voluto prendere una delle preoccupazioni fondamentali di Papa Francesco e più volte ci ha invitati a guardare una Chiesa in uscita e quindi questo sinodo che dice lo stile col quale essere Chiesa in uscita abbiamo voluto un po' declinarlo attraverso due incontri che si terranno a Novara in due sabati pomeriggio il 12 e il 19 di marzo alle ore 17 nel Salone dell'Arengo del Broletto. Allora, il primo incontro è molto importante per una revisione direi seria all'interno della Chiesa e sarà la presentazione fatta dal dottor Ferruccio De Bortoli un giornalista insomma molto noto che appartiene ad un gruppo di persone che il sociologo De Rita ha messo assieme nel tempo della pandemia proprio perché lui da credente è preoccupato di quello che stava succedendo del rapporto tra fede cristiana e evento della pandemia ovvero che tutto veniva spostato sulla preoccupazione medica della salute quindi un salutismo messo in primis e poco veniva valorizzato sul fronte della salvezza come parola di speranza cristiana. Ecco, allora da qui hanno realizzato questa analisi sociologica scrivendo poi un testo che ha un titolo che è diventato il titolo anche del nostro incontro cioè Igreggio Smarrito noi diciamo che il buon pastore insomma il pastore è capace di lasciare 99 pecore per andare a trovare l'unica qui il problema è opposto ecco che su 99 se ne sono andate e non la trattiamo bene tante volte neanche quella Chiesa e società nell'anno della pandemia quindi credo che con competenza è bene che osserviamo con attenzione questo tema perché si è continuato a parlarne anche negli incontri di preti del fatto della riduzione drastica della partecipazione probabilmente un laicato che era anche non molto motivato a partecipare bastato niente per annientare questa motivazione quindi il tema sarà quello la settimana dopo invece avremo il teologo Vito Mancuso al quale abbiamo chiesto di riflettere oggi sulla sfida dell'aldilà dal momento che la fede cristiana è fortemente in crisi nel parlare di quelli che erano gli elementi che si chiamavano insomma i novissimi cioè gli elementi escatologici quali riferiti appunto al tema della fine e oggi come oggi se noi vediamo quando muore una persona attraverso i social e quindi girano regolarmente espressioni di questo tipo ovunque tu sia che ne so che la terra ti sia lieve eccetera non si ha più la capacità di dare nome insomma a questa esperienza che è l'esperienza di morte tutti vogliono sperare in qualche cosa il cristianesimo ha una propria posizione su questo ci troviamo fortemente in crisi proprio su quella che è la sfida di una vita oltre la morte quindi l'argomento è grosso è questo ecco alcuni di questi eventi sono particolarmente significativi il rischio è che rimangano come dire circoscritti a chi vi partecipa invece c'è la possibilità ad esempio per uno di Verbagna di Domodosso o di Omegna di seguire qualcosa che avviene a Novara piuttosto che a Borgomanero c'è questa possibilità? sì sì su il pieghevole ecco di Passio che potete vedere che comunque è in distribuzione nella varia zona della diocesi ma soprattutto è possibile anche attraverso il sito internet www.passionovara.it recuperare tutti i dati contenuti chiaramente in questo pieghevole e molti altri ebbene sia sul sito internet come all'interno del pieghevole è indicato proprio il link sempre lo stesso collegandosi al quale è possibile connettersi con quegli eventi che sono già indicati nel pieghevole di presentazione come evento trasmesso anche in live streaming cioè in presenza ma anche quindi tutti quelli che hanno il simbolino della trasmissione in streaming vengono trasmessi a quell'orario uno si può collegare se non vi ricordate esattamente l'indirizzo basta andare su Google e fare Passio Passio e vi arriva forse c'è anche sul sito della diocesi sì c'è poi rimando anche al sito della diocesi chiaro beh diciamo che mi pare che abbiamo presentato abbastanza bene l'insieme di questa esperienza però vorrei tornare approfittando del fatto che oltre a essere biblista e presidente del comitato di Passio abbiamo qui anche un parroco un tema che è appena stato sfiorato è stato appena adesso ricordato come la pandemia ha cambiato le nostre comunità parrocchiali lo chiedo nella sua esperienza personale non soltanto a livello teorico sono cambiate le nostre parrocchie in questi due anni è cambiata la vita nelle nostre parrocchie allora quello che credo un po' tutte le parrocchie hanno dovuto subire è un abbassamento di livello partecipativo e un abbassamento che rischia di diventare sistemico cioè non è semplicemente perché c'era l'impossibilità ma una quota credo che un po' tutte le parrocchie una quota di partecipazione la perderanno e questo alcune soprattutto parrocchie della città città grandi tantissimo ma si parlava del 50% anche del 60% altre parrocchie di meno però una quota certamente le perderanno un po' tutte le parrocchie questo ci ha sollecitato e continua a sollecitarci a lavorare sulle motivazioni di quelli che ci sono chiaramente le motivazioni quelle che ci sono sono troppo importanti perché se tu non lavori sulle motivazioni e invece dai per scontato che uno per cose sue c'è punto e basta può anche darsi che questo livello motivazionale venga meno e quindi noi vediamo facciamo solo due conti quanti ragazzi entrano nel settore della catechesi tutti gli anni attraverso sono seconda elementare cominciano il cammino arrivano alla cresima e poi regolarmente escono e si allontanano quasi tutti comprese le famiglie con le quali prima si lavorava perché c'era il bambino è chiaro che come dire questo entrare ed uscire non è logico cioè non è logico perché dovrebbe essere esattamente l'iniziazione alla vita cristiana ma non per dire che poi non ti interessa più niente perché ti interessi di più ora ecco perché noi nell'incontro domodossolo abbiamo messo bissima fu nuova evangelizzazione perché in quel territorio invece il sistema è l'opposto non è che io attacco e poi mi allontano ma io comincio e poi mi avvicino ed adulto coscientemente io continuo a partecipare assumendomi la responsabilità della vita cristiana noi viviamo ormai da tantissimo tempo non è soltanto il covid ma direi che il covid ha dato una battosta notevole insomma a questo sistema viviamo tantissimo tempo questo problema che è motivazionale pensare che si immaginava il contrario questo digiuno forzato dalla partecipazione all'eucaristia alla messa dice quando finalmente si tornerà no proprio uno che ha sofferto la fame appena gli mette davanti da mangiare qualcosa invece in realtà così non è probabilmente così non è probabilmente e credo che l'incontro con Ferruccio De Bortoli chiarisca molti di questi aspetti ultima domanda flash giovani è un tema che ad esempio il vescovo ha sottolineato anche nella omelia di San Gaudenzio e che molti sacerdoti soprattutto chi si occupa di pastoralio giovanile negli oratori sottolinea sono davvero usciti tra virgolette devastati da questi due anni di pandemia si sono stati fortemente provati e la botta psicologica credo che abbia attraversato l'età magari degli anziani e quella dei giovani in particolar modo credo che chi ci sta in mezzo è stato meno provato perché c'è l'età che cresce crescente e dall'altra c'è invece quella calante in mezzo uno ha resistito di più certamente il tempo della pandemia ha fatto crescere moltissimo anche le percentuali di casi di giovani in difficoltà ma noi anche come Chiesa abbiamo una difficoltà incredibile ribadisco proprio lavorare sulle motivazioni ecco alla speranza perché anche i giovani hanno indubbiamente dentro una sete molto molto forte su questo fronte però vediamo che ci manca il linguaggio ci mancano le azioni sono venuti meno tantissimi punti tant'è che il problema dei giovani è sì un problema sociale ma diventa anche un problema di speranza cioè il futuro è stato tolto anche a loro vediamo che è difficile per tutti pensare dove si andrà a finire e i giovani lo recepiscono in pratica non più come attrattivo il futuro ma quasi una paura con un certo punto di vista bene il tempo a nostra disposizione è finito e speriamo che anche Passio 2022 possa essere un'occasione per qualche giovane di avvicinarsi magari visti certi linguaggi un po' meno tradizionali un po' meno tra virgoletto di Chiesa ma nel senso un po' all'antica quindi ci auguriamo che questa occasione possa davvero ridare motivazioni creare relazioni e ridare anche speranza e fiducia alla gente che ha anche bisogno di ritrovarsi diciamocelo francamente io ringrazio moltissimo Don Silvio Barbaglia biblista e presidente del comitato per il progetto Passio per la sua disponibilità grazie mille grazie anche a voi un grazie a tutti voi che ci avete seguito e vi aspetto fra una settimana sempre qui al Sasso nello Stagno per una puntata dal titolo un po' misterioso e suggestivo benvenuti nelle terre di mezzo non vi svelo di più e vi aspetto alla prossima settimana arrivederci